Anche a poco al suono della prima campanella, la Polizia Municipale di Arezzo sarà impegnata nuovamente nei controlli di che tipo? Sì, anche in questo caso qui noi sarà già predisposto, già alla fine dell'anno scorso, dell'anno scolastico, dei punti di verifica degli assembramenti, che poi sono i soliti punti che riguardano l'arrivo dei treni in Piazza della Repubblica, Piazza Guidomona, quando c'è più trasferimento nelle zone dei plessi scolastici di Portabuglia e in fondo a Via Petrarca, quindi nei punti in cui i giovani si possono ritrovare per recarsi a scuola. Sarà un rientro in piena sicurezza anche questo? Sì, ci cercherà anche qui di far sì che i giovani, sia all'ingresso che all'uscita della scuola, non vedono l'uscita dalle elezioni come un modo per potersi abbracciare, eccetera, cioè mantenendo un comportamento più consono alla situazione pandemica che speriamo che siamo alla fine. Anche perché il contagio tra i giovani è quello che preoccupa maggiormente in questo momento? Sì, è quello che dà una risposta più negativa anche visto l'estate, visto le varie situazioni che si sono ritrovate nei luoghi di velleggiatura.